Eccoci qui, eccoci qui, eccoci qui, post partita Lazio-Lecce, Lazio vince la quinta partita consecutiva, quarta partita, quarta vittoria in campionato consecutiva, non subiamo gol, facciamo un gol nel secondo tempo grazie al gol di Filippo e Anderson. Allora, allora, tre punti d'oro importantissimi, sono queste le partite che devi vincere per appunto andare in Champions, sono queste, toste, perché Lecce è una squadra tosta, gioca anche molto bene, di pressare molto alto e ti fa giocare male. Detto questo, allora al primo tempo Lecce ha fatto un buonissimo primo tempo, Lazio è rimasta però attenta, è rimasta in partita, non si è mai disunita, non si è mai presa impreparata nel primo tempo, in cui le volate del Lecce con i terzini c'è André e magari anche con Alquist, che facevano queste azioni da dietro, giocando anche abbastanza bene. Poi il secondo tempo cambia la storia, esce i Saxen, mi giro in campo oggi Saxen, ma ragazzi non bisogna croceviggere i Saxen perché Saxen è un problema al ginocchio. Il ginocchio purtroppo se hai quel problema non riesce a giocare al 100%, ragazzi, e il discorso di Zaccagni è diverso perché Zaccagni ha il piede, ha l'alluce, non è il ginocchio, quindi sono due cose completamente diverse. Poi è entrato Pedro, ha dato vivacità nel secondo tempo, subito, è entrato bene in partita, poteva essere magari un po' più preciso nei passaggi, però comunque è entrato bene. I gambi hanno cambiato la partita, questo fa capire che a Lazio rispetto allo scorso anno una grande vastità di gambi in panchina, che ti vanno a vincere le partite. Entrano Lazzeri, entra Pedro, entra Immobile che è tornato, purtroppo si è peccato questo giallo anche in maniera giù ingiustificata, perché appunto provoca il romanista Falcone, viene ammonito inispiegabilmente Immobile, purtroppo salterà come lui, salteranno anche Zaccagni in Napoli fra due settimane, quindi giocheremo senza Ciro e senza Zaccagni contro il Napoli, però avremo comunque Saxon, Felipe, il Tati che tornerà fra qualche giorno, fra una settimana credo, e Pedro, comunque le seconde linee ne abbiamo, ecco, e possiamo battere il Napoli sicuramente, perché il Napoli in questo momento è in difficoltà. Comunque, bene Zaccagni che nonostante il piede, nonostante non si sia allenato in questi due giorni dopo il debito, perché appunto ha ancora questo problema al piede, che ancora non si è sgonfiato del tutto, gioca, ha giocato 77 minuti, di grande dinamismo, nervoso nel primo tempo, poi nel secondo tempo è sceso in campo con una perva diversa, e si è visto, perché ha creato molti pericoli dalla parte di Centeprime, poi nel subentrato Venuti, che si è peccato anche il giallo, per un falo su Zaccagni. Poi, bene Quendosi, benissimo Rovella, ragazzi, Rovella migliore in campo oggi, Rovella veramente è un giocatore che sta diventando imprescindibile per questa squadra, un giocatore che poi ha un ruolo complicato, importante per Sarri, il premaker davanti alla difesa, questo giocatore ti garantisce grande equilibrio, grande dinamismo, grande qualità di palleggio, grandissima poi fase di difensiva, perché ragazzi, Ruella ha fatto dei recuperi oggi impressionanti, 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 poi ha fatto una corsa al 93esimo su quello appena entrato, o di chi era, o Caba o Trevezza, mi sembra Caba, ragazzi, Rovella è rimasto lì, ta 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 ta, Rovella, ragazzi, tanta roba, tanta tanta roba, Luiz Alberto fa l'assist per Felipe, che poi fa il gol del 1-0, un gol importante, bella azione, poi dopo 1-0 la Lazio si sta bloccando anche mentalmente, perché ha cominciato a fare le azioni di puro sarrismo, tutte belle con il giro palla, o due ducchi, tu ta ta, te, te, ti, pa, in mezzo, bellissima azione, poi purtroppo non siamo usciti a fare il 2-0, questo è l'unico nero della partita, però comunque Lazio ha vinto meritando il secondo tempo, sono tre punti fondamentali per proseguire il nostro cammino, iniziano male il campionato, ma che man mano stiamo recuperando, con queste quattro vittorie di fila, senza subire gol si è fatto male pure Patrick oggi per un problema alla spalla però penso sia di poco conto giocherà contro l'Inter Ghila grande partita bene Romagnoli con l'entrato bene Mellegrini bene Marusic in fase di vizia molto bene non c'è l'unica insufficienza che posso dare è Isaacson ma Isaacson ragazzi non sta bene si vede non sta bene ragazzi se fosse stato bene Isaacson avrebbe fatto una grande partita come l'aveva cominciato la Grudenese domenica scorsa poi ha avuto un problema al ginocchio e non ha più diciamo espresso il suo valore che ne ha tanto comunque detto questo ci vediamo venerdì post partita della Supercoppa di Lazio-Inter a Pechino scusate a Riad e niente sempre forza Lazio tre punti importantissimi per il nostro proseguo del campionato e daglie daglie Lazio